Nessuna attività da parte del Presidente del Tribunale di Ragusa, del Procuratore e dell'Ordine degli Avvocati per utilizzare al meglio le strutture esistenti nel territorio ebleo come il Palazzo di Giustizia di Modica e l'edificio della sede staccata di Vittoria. La denuncia è arrivata ancora una volta dal portavoce del Comitato Pro Tribunale di Modica nel corso della riunione svoltasi venerdì 13 a Palazzo San Domenico nella quale si è deciso di aderire al coordinamento nazionale che punta alla riapertura dei 31 tribunali soppressi dalla legge di riforma della geografia giudiziaria in Italia. Una iniziativa partita dai comitati di Nicosia e Mistretta allo scopo di ripristinare quella giustizia in prossimità a favore della quale nel corso di un recente convegno si sono pronunciati favorevolmente anche i rappresentanti di Forza Italia, 5 Stelle, Lega e Partito Democratico. Nel corso della riunione del Comitato Modicano è stato reso noto che il Bando per la ricerca di locali dove sistemare alcuni uffici giudiziari di Ragusa ha ricevuto tre offerte che a quanto pare non sarebbero state ancora esaminate. è stato rilevato che sarebbero in corso procedure a dir poco discutibili per gli enormi oneri che ne derivano in netto contrasto con i presupposti della legge di riforma improntata sul risparmio e sull'efficienza e celerità della giustizia. Si preferisce continuare a utilizzare un immobile che manca di troppi requisiti di sicurezza ha affermato ancora una volta a Galazzo vuoi spendere soldi pubblici per affittare locali per nulla adatti allo svolgimento di attività giudiziarie lasciando chiuso il pala giustizia di Modica uno dei più moderni ed efficienti d'Italia. È stato poi deciso, in attesa che si formi il nuovo governo nazionale di percorrere anche la strada del coinvolgimento della regione siciliana per riaprire i tribunali di Modica nicosia e mistretta sfruttando l'applicazione del comma 4 bis dell'articolo 8 del decreto 155 del 2012 che consentirebbe in via sperimentale senza limiti di tempo l'esercizio di funzioni giudiziarie nei locali degli uffici soppressi mediante una convenzione tra il ministro della giustizia e la regione con ore di spese a carico di quest'ultima. Il comitato ha impegnato il sindaco di Modica a Bate a fissare entro pochi giorni un incontro fra i primi cittadini di Modica nicosia e mistretta con il presidente della regione Nello Musumeci.